Signora Vice-Segretaria Generale del Consiglio d'Europa, signori membri del Governo e dei Parlamenti dei Paesi membri del Consiglio d'Europa e degli Stati del Mediterraneo, autorità, signore e signore, è un onore ospitarvi qui alla Camera dei Deputati e poter inaugurare questa conferenza. L'Italia è stata il primo Paese fondatore del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea a ratificare la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. La ratifica, lo dico con orgoglio, è stato il primo atto legislativo di questo Parlamento nell'estate dell'anno scorso, come ricorderete. È dunque per questi motivi, e di nuovo lo ribadisco e con orgoglio, che di concerto con il Ministero Italiano degli Affari Esteri e con il Consiglio d'Europa abbiamo voluto organizzare qui, alla Camera dei Deputati, questa iniziativa che va sotto il titolo di Al sicuro dalla paura, al sicuro dalla violenza, l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul.